mettiamoci alle spalle le urne è così tanto non se ne parla più al referendum ha nettamente prevalso il sì era una vittoria annunciata e ciò non di meno è una vittoria marcata e va detto ed è una vittoria del movimento 5 stelle non tanto perché i voti sì siano tutti il movimento 5 stelle che sarebbe una sciocchezza a fermarlo ma perché quella è una battaglia del movimento 5 stelle quella è una vittoria politica del movimento 5 stelle avere costretto tutti gli altri tutti i partiti a dire sì al tempo stesso nella stessa ore sulle stesse urne movimento 5 stelle ha perso voti a rotta di collo il centro sinistra per la precisione il partito democratico è considerato sostanzialmente vincente della tornata elettorale pur avendo perso una regione le marche ma questo perché perché era data in qualche modo come prevedibile alla sconfitta del periodo democratico soprattutto in toscana e in puglia questo non c'è stato il partito ha tenuto poi ci sono anche le comunali dove anche lì sostanzialmente lo stesso risultato hanno ottenuto i voti e quindi questo ha un effetto diciamo così vittoria pur nella sconfitta nella perdita di voti e di stabilizzazione del governo tanto più che dopo il referendum con il taglio dei parlamentari e con il crollo dei voti il partito che meno intende andare a votare in questa terra è il movimento 5 stelle il centro destra vince una regione guadagna una regione ne governa adesso 15 su 20 quindi potrebbe dire siamo noi la forza che ha la maggioranza in italia può dirlo però appare sconfitto appare sconfitto perché ha dato l'assalto a regioni come la toscana e la puglia perdendo l'ha dato l'assalto forse con meno speranza di vincere ma certo con qualche speranza di prendere un po più di voti i regioni come la campagna questo è il quadro quindi prometteteva come vi pare a secondo del gusti e delle vostre preferenze potete stabilire che hanno vinto tutti o che hanno perso tutti ma insomma più o meno li siamo il tema è che all'indomani di questa ennesima tornata delle urne rimangono i problemi seri il problema serio vero grosso è che a ottobre va a presentare la legge di bilancio e la legge di bilancio deve essere coerente con le modalità e gli indirizzi di spesa dei fondi next generation cioè dei fondi dell'unione europea questa quello non dipende la sopravvivenza del governo conte non dipende l'omogeneità della maggioranza che chi se ne importa o dell'opposizione che chi se ne importa moltiplicato due non è questo dipende l'italia perché noi nel 21 e nel 22 possiamo pure andare avanti galleggiando sulla spesa di quei fondi ma se verranno spesi male affonderemo nel 23 24 e io sono convinto che il nostro un paese che può crescere più degli altri grazie a quei fondi anche perché purtroppo veniamo da una passato di scarsa crescita ma dobbiamo usarli bene allora il tema non è la gabbina di regia chi partecipa chi viene coinvolto quali idee ci sono c'è l'intero patrimonio edilizio delle scuole che fa pena allora ristrutturato dove va ristrutturato dove sta nei centri storici dove sono palazzi che hanno un significato va demolito e ricostruito dove sono diciamo edifici più recenti e assolutamente non significativi non ci sono i fondi per farlo e sarebbe una tipologia di edilizia che punta a creare le condizioni per una buona educazione e crea immediatamente lavoro stesso discorso vale per la sistemazione del territorio idrogeologico adesso andiamo incontro le piogge cosa facciamo torneremo con le frane con le cose tutto questo a che vedere con la manutenzione con un grande siamo lavoro di monitoraggio e manutenzione questi sono investimenti che portano bene che portano ricchezza la nostra sanità in periodo di covi almeno degli standard minimi rispettati ovunque e controllati tutti da una medesima autorità centrale non ci può essere la sanità dialettale come c'è oggi in italia che è una cosa indecente e che significa che non bisogna solo mettere il prezzo cioè quantità di soldi che intendi spendere ma è il tipo di riforme che intendi fare e così via questo dobbiamo arrivare a questo livello di discussione su questo ci possono su ciascuno possono esserci idee diverse legittime quello che non è legittimo e continuare a porre questo tema sullo sfondo come se il vero problema fosse ma li prendo non li prendo questi santo ormai abbiamo capito li prenderanno tutti ma il tema è non non buttarli perché non torneranno più